Preziosa tenda in organza realizzata da Chemois interamente in Italia in puro pizzo Provenza. La particolarità di questa tenda sono queste quattro balze così larghe da formare questo modello che si chiama Fru Fru, bellissima in qualsiasi stanza. Ora mi avvicino per farvi vedere il bellissimo ricamo del pizzo Provenza che è realizzato con queste romantiche rose con ammazzolini, con queste foglioline molto belle e su tutte le balze è presente questo orlo smerlato. E' possibile realizzarla in diverse misure e diverse colorazioni a seconda delle vostre esigenze. La possiamo appendere attraverso, come tutte le tende Chemois, attraverso il passante unico a scomparsa oppure come abbiamo fatto noi con questi fiocchetti sempre in organza tinta su tinta per formare questi deliziosi fiocchetti più romantici e rendere la tenda ancora più romantica e meravigliosa. Anche nell'ultima balza è presente l'orlo smerlato.